Tra di voi c'è uno sexy nel ballo, ma non dirò chi è, perché potreste offendervi. Non lo dici, non lo devi dire. Faccio anche i luccichini, ha visto? Non è sicuramente Alex, non è... Guarda il bacino come lo vuolo. Quel bacino mi ingricca, devo dire la verità. Vabbè, non ve lo dico. Per oggi però ci sfidiamo a disegnare. Disegneremo diversi disegni pazzeschi e difficilissimi. E se è stregato, verrà i disegni peggiori e verrà votato come peggior disegnatore da voi. Non è probabile. Allora dovrà uscire qualcosa, la faccia, il pelo del pube. No, ma che schifo. Il piede. Il suo pelo. Non lo so. Il piede. Quindi impegnati, mi raccomando, non devi essere il peggiore, ok? Sarò bravissimo. E adesso iniziamo col primo disegno che sono gli zombo. Cosa andiamo a disegnare? Sei stupida, sono lì, cioè letteralmente. Vabbè, volevo esserne sicura, va bene? Ok, ha un bel disegno grande, mi raccomando, zombie. Perché è partito il timer. Ok, 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 ok. Allora, bisogna essere abili nei disegni. Io ve l'ho sempre detto che non dovete fare schifo. Ma lo sapevi come mi chiamavano a me? Idiota. Leonardo da Vinci. Perché io facevo dei disegni wow. Ti giuro? Allora. Guarda che secondo me ti sei confuso. Ti chiamavano perdente e tu hai sentito Vinci. E quindi ti sei ricordato questo. No, no, Leonardo da Vinci mi chiamavano. Te lo dico io. Io non lo so fare lo zombie comunque. Ah, ti sta bene. Non ti verrà a dare la mano. Tre, non ti sto cercando di facilitare, però effettivamente... Eh, ma già io sono in difficoltà. Eh, ma il mio è peggio, eh. Ma ve ne do brutto, mannaggia. Il mio è veramente brutto. Il mio è bellissimo, gli ho fatto pure una sciabola. Una sciabola. Ma contento, sì, sì. Ma quante robe fate voi? Ricordatevi sempre che la cosa più importante nei disegni è che siano credibili. Quindi dovrebbe essere praticamente simile all'originale. Uguale all'originale, sì, sì. Va bene, va bene. Mamma mia. Eh, ma avevi detto che stavi facendo malino, non bravissimo. Eh, infatti sto cercando di darmi energia. Guardate che coloro sono i pantaloni, amici, aiutatemi. Io glieli ho fatti i pantaloni. Non glielo dite, non glielo dite. Ecco qui, guardate però che il mio è... Ah, sì. Siamo a un minuto e tredici. Eh, allora... No, no, raga, però non fate così. Il tempo strange, eh. Bisogna essere veloci. No, no, aspettate, non vale. Eh, vale, 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 vale. Aspetta che finisco. Come stanno i giochi dei zombie? Questo dettaglio speziato. Guarda come sta venendo. Bellino. No, no. No, non essere troppo bravo. No, raga, ho sbagliato. Aspettate. Sexy, questo zombie me lo bacerei tutto. Ah, voglio vederlo poi. Eh, gli faccio anche, gli faccio anche un pochino di, così, un pochino di sburdacce, così, un po' qui. Ah, sì. No, ho sbagliato tantissimo, mamma mia. Eccolo qua, un po' di zozzerito. L'ho fatto l'altro pot, però. Ah, no. Mi è stupendo. Io ho anche finito, se ve lo stai chiedendo. Se ve lo stai chiedendo. Ma che cosa ha detto? Ma che schifo hai fatto? Ma che schifo, ma che schifo di invecine. È un pochino sulla mia arte, è per quello. Ma che cacchio. Ma io devo portarmi uno come te. Ma io lo caccierei. Ma guarda, vieni buttato fuori dal video se lo rifai. No, 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 non mi cacciare, non lo faccio più. Ti giuro, io ti sto per mandare via. Cioè, ma che schifo sei. E un giorno è colpa del microfono. E un giorno è colpa di stregato. Eh, e oggi di chi è la colpa? Ma è colpa mia. Oggi è colpa mia, Lion, perché ero tutto emozionato per la mia arte. Ma voi avete finito più che altro. Io ho finito di brutto. Eh, ne fatti, è finito il tempo anche. Eh, ma abbondantemente, eh, abbondantemente finito. Ok, fatto. Ok, iniziamo da vedere. Ricordate di ballare a fianco ai vostri disegni, perché questo aumenta il voto. Quindi è importante, ok? Vabbè, partiamo da Alex. Va bene, partiamo da Alex. Balla. Oh, guardate il mio bellissimo disegno. È una vera da... Un po' schifo fa. È arte. Ma è proprio brutto, eh, secondo me. Ma pure la spada, il tuo ce l'hai la spada? Ma il mio non ne ha bisogno, perché è più selluto. Ma hai mai visto uno zombie con una spada in diamante? Infatti. In effetti sì, come voglio. Ma è bruttino, no, non mi piace per niente. Brutto, come lui. Quello di Anna, invece, secondo me, è bellino. Guardate com'è simpatico. Ah, è un cervello. Eh, è più intelligente di Alex. Ma pure la bava alla bocca, sembro io la mattina. Questo è il mio. Potete vedere i dettagli di succo di pomodoro, però... Oh, che virno, ma ti si scotò? Vai con questo. E poi ha un bel sorriso, non come il tuo. No, come, guarda il mio sorriso, è bellissimo. È il mio torno! È orribile. È carino, dai. Però sembra più uno slime in una pozza d'acqua. Però va bene. Ti dovrei carbonizzare, eh. No, ah, 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 ah. Anche a te, anche a te. Anche a te. Lo sappiamo bene chi è. No, no, no. No, per come ti sei per me. Ma cosa ci troviamo? No, no, a te di brutto ti devo carbonizzare. Muori, ne muori, ne soffri, ne patisci, ne. Masso di... Bello, bello, bello. Inutile, sacco di letame, imbecille, non parlante, cretino, ignorante, incapace di esprimersi, deficiente, tonto. No, vai via. Ho compreso, ho compreso. Do quanto via? Dieci secondi di penalità. No. No, va bene. Ok, questa volta dobbiamo disegnare lo scheletro, Anna. Si vede anche da lontano, non c'è bisogno di toccarlo, eh. Eh, no, volevo vederlo bene. Due, uno, iniziamo con lo scheletro, boys and girls. Guardi tu il timer. Il mio sarà... Dieci secondi, eh. Raga, questo è difficile, è difficile di brutto. No, è facile, basta essere forti. Ma di che colori si fa? È tutto bianco, quasi. Non ti darò aiuti. È finita la penalità. Stai zitto, Alex, nessuno vuole sentire le tue avventure da sfigato che non sei altro, sei brutto, non ti ama nessuno. Ti odiano, tutti ti odiano. Sì, ma proprio... Cioè, io ho parlato, ho fatto un sondaggio di marketing, ho chiesto, ma chi è il tuo VGF preferito, no, a tutto il mondo? Alex Nauz, tutti quanti l'hanno detto. Nessuno l'ha detto. No! Nessuno! Cioè, proprio... Dai, poverino! Eh, ma è stato il pubblico a dirlo, mica noi. No, io ho detto, ma votate anche Alex, che poverino, poi si mette a piangere, ex. E loro hanno detto, sì, meglio che pianga, ma deve morire. No, perché che si pianga! Deve annegare nelle sue lacrime. Questo era... Ah, e vabbè! È messo in eccessivo! Raga, non so fare lo scheletro, come si fa! Guarda, devi avere fantasia, soprattutto con le costole, perché anche il mio è un po'... Eh, infatti le ho fatti, tipo, sembrava una lisca di pesce, ho fatto un macello. Sì, sì. Lion, io ho paura che farò il più schifo. Oddio, no, è orribile, è orribile. No, eh, guarda, e poi ho capito che tu vuoi uscire ai piedi, però... No, te lo giuro, mi sto impegnando, ma non funziona! Ti devi impegnare! È bellissimo, fa anche un balletto strano, con le gambe. Hai chiesto qualcosa a te? Ma, scusa, eh, non vuoi sapere? T'ho domandato, t'ho domandato io. No. No, sei il più brutto di tutti, è meglio che tu stia da parte, anzi, secondo me. No, dai, però è cattiveria questa, un po' meno. Dai, mi sento luridino e mancano tipo 40 secondi. No, no, perché 40? Chi l'ha detto, porca miseria? Eh, manca poco, anche perché io ho quasi finito, eh, quindi... Manca davvero poco questa volta. Ma come hai fatto? Eh, ho fatto schifo, ecco come ho fatto, però... Sta finendo. Eccolo qui, guarda che bello. No, il mio è privo di espressioni, è molto brutto. Vabbè, è normale, lo scheletro è ovvio che è privo di espressioni ed è un po' brutto. Il mio è un po' strano, eh, non so neanche se sembra uno scheletro, però facciamo finta di sé. Ma l'arco gliel'avete fatto voi? Certo! Ma che vuoi? Cioè, non lo devi sapere. Fatti gli affari tuoi, che copi. Mancano 10 secondi! Dai, non copio mai, quando mai è successo le copie, fammi un esempio. Sempre, quando hai copiato la skin di stregato anche. Oh, diglielo un po'. Te lo dico un po'. Che ho se lo dimentica. 3, 2, 1, ho terminato il tempo, basta. Certo, guarda che potete disegnare un quarto d'ora. Va bene, andiamo a vedere prima quello di quello sfigato di Alex che sicuro fa skin. Guarda che è bello, è stupendo! È meglio del mio, è meglio del mio. Ha fatto il Wither Skeleton! Però è stato bravo! No, sono invenenoso! Oh no, no, no! Non farci quello che io penso che tu gio... Ah, Alex, Alex, hai fatto un pisello nel disegno, ma non ti vergogni, ma che sei proprio... Invenenoso! Sei senza pudore. Adesso la mia qualità è pudore, invece, guardalo. Pensavo fosse una farfalla! Ma perché devo morire sempre? Perché fai schifo. Ma come? Ah, che bello questo! Ma come è possibile? Adesso è perfect quality! Ma è meraviglioso! Ma come ti permetti di ballare vicino al zino? Ah, io volevo ballare! Volevo festeggiare con lei! No, non pare a queste cose! Oh no, altri pisellini! No, qua ci facciamo una zona di Alex. Vedi? Tu devi stare qui. Vedi? Cosa c'è? Cosa c'è scritto lì? Ok. Per sempre, eh? Mi raccomando non uscire! Ma non è meraviglioso! Devi stare anche zitto, eh? Perché in quella zona, non so se te l'hanno detto, adesso ti informo io meglio. In questa zona qui c'è il simbolo dello speaker, no? Così. E poi, in rosso, il vietato. Vedi? Capito? Oh, che bello! C'è un silenzio proprio piacevole. È particolarmente chiaro quel simbolo. Secondo me dovresti rimanere lì e fare tutti i tuoi disegni lì, hai capito? No, hai capito o no? Ah, ok, bene, meno male. Ha fattuti con la testa! No, dobbiamo guardare il tuo, ma sei pazzo? Stavo dimenticando, il mio è un po' sguarrato, eh? Ha subito dei danni. È bellissimo, guarda, ti so... Bravissimo. Però è più carino del mio comunque! Ah, non dire così, non è detto, vediamo. Anche le dita dei piedi è più carino. Mamma mia! Alex, esci dalla zona di esclusione, puoi venire a vedere quello di stregato e commentarlo. Vedi davvero, voglio vederlo! Mamma mia, no, io ti sono, non ho mai fatto roba peggio. Cos'è uno stecchino per i denti? Ma così però vuoi uscire i piedi, eh? Io non so cosa dovrei uscire, ma... No, io che prima l'ho fatto benino, adesso no, è tragedia. Orribile. Secondo te, Alex, che parte del corpo sarebbe interessante vedere di stregato? Ah, secondo me il piede no. E neanche quella cosa che hai detto tu, perosa. Il lobo dell'orecchio! Eh, il lobo dell'orecchio è curioso, eh? Io lo vorrei vedere. Anch'io! No, non ho guardato le mie orecchie! Sì, non so se ha dei piercing o degli orecchini. E non dircelo, perché potrebbe essere un'ottima rivelazione, mi interesserebbe. Non voglio uscire i denti! Ah, adesso tutti incendio... Allora, disegna bene! Ok, disegnerò bene! Pronti? Il ragno questa volta, eh? Il ragno è difficile, è tutto gambe. Vai, pronti, è partito il timer! Ok, allora, un bel ragno, eh? Bello e interessante. Allora, facciamo così, tipo... Misera, il ragno è difficilissimo però da fare, eh? Ma come lo si disegna? Eh, bisogna impegnarsi. Eh, qua ci vuole l'arte e Leonardo da Vinci sa come fare. Così? Leonardo da Vinci sa come fare, ma anche Lion sa come fare. Gli sta a mettere i piedi in testa a Leonardo da Vinci. Oh, sai io, Leonardo da Vinci, come ti permetti? Sei indecille, sei tu. Aspetta che guarda che bello che mi sta a venire. Guarda che bello! Che schifo! Non so for le formi! Mamma mia, sembra reale, guarda, praticamente. Sembra quello che voi vi dovete mangiare perché io ve lo compro. Che schifo! Ragno commestibile, ottimo. No, 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 mi stai distraendo troppo. Oddio, non mi sento male. Quello di proteina, tutta buona. Dai, che schifezza, no, smetti. Mi ingricca il ragno, eh. Il mio è stato fatto benissimo, Lion, ti farà schifo quando lo guarderai. Anche il mio ti farà schifo. Ma ti occhi c'ha sta bestia. Adesso, guarda, ci aggiungo a te dietro così fa ancora più schifo. Oh! Eh? Non puoi usare un po' arrabbiato. Non puoi usare un po' arrabbiato. Oh sì, vedi che così, visto che qua è una gara a chi fa più schifo, io vinco sicuramente. Oh, è passato un minuto e ne abbiamo ancora uno. No, ma come? Oh, ma che è sta storia? No. Sarà pieno di tempo. Un minuto mi basta, mi avanza un minuto. Ecco qua, guarda. Ma che brutto. Ah, che schifo. Che schifo. Beh, secondo me il mio è già quasi finito. E gli aggiungo? Ah, no, mi mancano dei dettagli. Sì, aggiungo qualche dettaglio di un colore così. No, ma il mio mi fa paura. No, 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 no. Ho paura di aver creato un mostro. Ah, lo rendo velenoso il mio. Ah, sì, guarda che schifozzone che è così, sì. Vi faccio pure un altro dettaglio che non vi dico perché voi copiate. Ma il mio è perfetto, perfetto. Ah, le, che schifo. Ok, siete pronti a finire col tempo? Un secondo. Ok, aspetta. Ok, 3, 2, 1, fine del tempo. All right. Fatto. Prima di vedere i disegni però mi prendo un attimo per farvi vedere un'altra cosa dove ci sono dei disegni molto più belli dei nostri. Che è il mio nuovo libro dei mostri. Guardate che bellezza. No, ma lo tesidero. 28 creature inventate da me. Una dedicata a ognuno di loro e una dedica all'inizio per tutti voi. Voglio scoprire qual è la mia. Andatelo a comprare in tutte le librerie e su Amazon dal 22 novembre. Ma lo potete preordinare adesso sia su Amazon cercando il libro dei mostri oppure il link in descrizione nel primo commento. Io ho già preordinato una copia. Grazie, ma non sarò più gentile con te per questo, Alex. Guarda che bel ragno. Effettivamente. Ma si è impegnato. Che? Un botto si è impegnato. È bello, eh. Anche la ragnatela da sopra si cala. Ah, questa qui. No, no, cosa fai? No, no, no. Alex ha disegnato una pisellotela da sopra. No, no. Alex, che è pervertito. Io non me l'aspettavo da lui. Ti faccio subito la tua zona di esclusione. No, no, la zona di silenzio. Ecco qui, vai qui subito immediatamente che fai schifo a tutti. E questa volta qui non si parla. Così ti faccio il simbolo. Vedi? Ma non si esiste neanche. Quindi tu praticamente devi... Ma non puoi fare niente. Devi sparire completamente. Vedi che lì c'è scritto? Oh mio Dio, ma è impossibile da fare questa cosa qua. Piliati una pozione e fai quello che devi. Inesistente. Ok, non ti voglio vedere. Vabbè a me. Bravo, bravo. Bello, bello questo. Bello davvero. Ma che brava. No, ma Lion, qua ci sono troppi artisti. E io mi sento un attimo. Però io... Per una situazione. Secondo me i miei non sono così belli oggi. Eh, ti dico la sincera verità. Quindi... Eh, vabbè. Non abbiamo tutte le giornate. Alex, sarà ancora... Aspetta, fammi provare un po'. Ah, era lì, era. Ah. È nascosto. Proviamo di nuovo. Eh sì, è lì, è. Sento la sua presenza. Vedo che brucia. Vuoi uscire? Comunicami se vuoi uscire. Va bene. Oh, è tornato di... Ma che bravo. L'uscita dalla zona dell'invisibilità, scomparenza, è muto. Questo è il mio disegno. Bellissimo. Fa paura. Ma un botto. Non bellissimo, però. Siete sinceri. Non è proprio... Eh, punti bonus perché quello sono io, vero? Sì, è brutto, eh. Eh, beh. Però, giustamente, dovrebbe essere brutto. Ma... Uno più brutto dell'altro. È un bel ottrissino. Balla almeno. Balla. Sto ballando ma non mi vado. Balla e brucia. Balla e brucia. Dai. Ah, loser, loser. Serino. Ah, Alex. Posso dire che ero davvero molto schifato del soggetto. E mi è venuto molto difficile farlo. Ti ho dovuto fare la L di loser. Strecato. Eh, ma poi cos'è? Sembra uno schifo strano. No, quello è il ragno che hai disegnato te che sembra schifo strano. Strecato. Mi dispiace. Vuole decisamente uscire qualcosa di proprio. Dai, di proprio tuo, eh. Sei proprio voglioso. Cosa vuoi uscire? No, niente. Ma ormai. No, uscirò una mano o l'orecchio. Il pisello? No. No, che schifo. Che schifo. Scusate, scusate, mi dissocio. Sono stato volgarissimo, chiedo scusa. Pensavo stesse pensando quello, gli avrei detto stregatto, assolutamente no. Anche perché poi... Ma ovviamente non l'avrei mai fatto. Ci tocca comprare una macchina per gli ingrandimenti perché è molto piccolo. E vabbè, è sempre sta storia. Dai, disegniamo il Warden che è difficilissimo questo. No, è impossibile, ragazza. Questo è veramente difficile. Ma iniziamo. Ti metto tutta la mia buona volontà, eh. Ma poi il colore, come lo trovi? Eh, questo è arduo, eh. Eh, questo è arduo, eh. Un bel po' arduo, eh. Lo state facendo voi? Eh, ci stiamo a provare, ma... Questo è arduo. No, troppo difficile. Come si fa? Non ne ho idea, eh. Possibile. Io vado di fantasia, spero di riuscire, eh. Che qui io è stregato. Non so chi dei due fa peggio, eh. No, 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 io ho paura. Non voglio perdere. Eh, ci dovevi pensare prima, sai. Perché io non mi sono impegnato. Volevo aiutarti, ma... No, sono fregatissimo. Sono fregatissimo. Il mio è brutto, eh. Non riesco anche il mio è brutto stavolta, eh. Quindi, secondo me, hai speranza. Perché il mio è brutto, quindi... Eh, ok, ok. No, mi impegno un botto. Mi impegno un botto. Lo dirò, è difficile, è difficile. Ti ricordo che votano però i ragazzi a casa, quindi... E a quel punto non abbiamo molto controllo noi, eh, su quello che succederà. No, no, per favore, fate i seri. I seri, ma finora tu non è che sei stato così bravo, eh, a disegnare. No, no, adesso sarò più bravo. No, è possibile. Non è schifo, vi prego. Dateci del tempo bonus, vi prego. Così? Ma allora, io l'unica cosa che riesco a fare è il colore. Quella è l'unica cosa. È proprio easy. Io neanche. Io vi giuro che non sto capendo nulla. Ma com'è possibile? Non lo so, è... No, 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 è troppo arduo. Troppo. Ma hai fatto una roba del genere? Ma c'era la bocca al warden? Certo che c'è la. È l'unica cosa che si vede. Un vuoto nero. Non c'ha gli occhi. Un vuoto nero, un vuoto nero. Allora facciamo così. Beh, brutto è brutto il mio, eh. Quindi punti bonus perché è brutto, non lo so. Poi gli faccio un pochino di braccia, così, un accenno di braccia. Io non riesco a fare il colore, per me è impossibile, ragazzi. Ci ho provato. Sì, un po' di puntini qua e là. Sì, un po' di... Devo scopare! Alle mammelle, cioè, cosa... Eh sì, quelle cose là, cioè, vicino al corpo. Ma quando vai? Due tette maschie, insomma, così. Non abbiamo tanto tempo, ve lo devo dire. Eh, lo so, ma questo era difficile, eh. Ma proprio tanto. Allunghiamo, allunghiamo. Così, è bello possente. C'hai i pugni? Dai, almeno per questo. No, non hai i pugni, penso. Eh, il mio ce li ha i pugni. Belli grossi, potenti, eh. Fanno male questi. C'ha... C'ha i denti, per caso? Eh, sì, prova. Metticeli. Tu fallo, nel caso. Sembra blu dei Rainbow Friends, il mio, eh. Non sta venendo tanto bene, però. Il mio sembra Sally di Monster & Co. Ok. Finito il tempo? No, no, no! No, ancora un attimo di tempo. Oh, grazie mille! Sei un santo! Mi faccio anche qualche pelo. Perché secondo me il Warden c'ha un sacco di peli nel pube, così. Il mio non mi piace, non mi piace per niente. Non è difficile, no? Ecco qui, tutto bello. Non è difficile! Peloso. Ah, anche sulle braccia, secondo me. Bello pelo. Ecco qui, Warden pelone. Basta! Eh, mi sa che qua mi devo rendere. Eh, sì, mi sa proprio di sì. Pronti a finire? Un secondo! Ecco qui, un po' anche qua sopra la testa. Gli rifacciamo il ciuffo della Elvis Presley. Ok, guarda, questo colore. Ok, basta! Tempo! È finito! Finito, finito, finito! Guarda! Oh, ma più o meno. Ma, iniziamo da quello dello sfigato. Bella! Ma che bello! Bruttissimo! Stupendo! Ah, 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 ah! Si capisce che il Warden, dai? Si capisce un po'. No, secondo me, questo qui, ragazzi, è proprio brutta una porca. Hai fatto schifo, non si può guardare. Ah, Lion, c'ho provato! Hai detto un po' il Transformer, eh? È orribile, Lion, è proprio brutto. Il mio sarà molto... Ma... Ma insomma, aspetta, esageriamo. Anche questo è un po' più forte. Il colore, almeno il colore. Il colore è il più simile, effettivamente. Anche la forma della base. Ma perché Alex balla quando è il mio disegno? Aia! Non è freddo, rimeriti! Non farlo mai più, ti espello, eh? Dove sei? Ma c'è la febbre del ballo quando si balla, io ballo. C'è la febbre della malaria. Vieni qua che ti pungo. Vieni qua. Non mi punziare. Guarda, dove è andato? Vieni qua. Ma ti disegno una zanzara cattiva che ti punge e ti viene la malaria. Ecco qua. Ecco. Oh no, la zanzara. Oddio mio, è terribile quella. Vedi di a fianco. E' strana. Fai zitto. E poi vedi adesso cosa succede. Tu, uguale. Che cosa esce? Un demone. Morto Alex. Vedete? Aaaaaah! E' realistico, è realistico. Ma che potenza? Ma questi disegni sono rotti. Ecco, ora stai tutto una meraviglia. Prossimo disegno, questo qui è il mio. Ed è bello, secondo me. Ma che bellino! Belloso. E' bellosone. Simpatico, è un pochino simpatico. Ci ballo vicino perché giustamente questo merita. Bravo, bravo, mi piace tanto. E infine quello... Posso ballare con te? No. 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 Ma ti devo bannare. Eh? Dai, volevo ballare. Allora, ti disegno un'altra cosa. Allora, questi qua siamo noi, vedi? Oh, stregatto. Anna, stregatto. Oh, eh, io sono molto carino. Dai, io pure, no? Vedi, siamo tutti noi. Vedi come è bello? Che bello, guarda. Io mi riconosco troppissimo. Perché tu sei più basso? Adesso mi faccio più alto. Ecco qui. Ok. È lungo. Stregatto è storto. Adesso è più giusto. Esatto. Vabbè. Poi ci sei tu, Alex, che sei molto lontano. Sei qua. Perché sono qua giù? Ecco, vedi? E sei pure storto. Perché dai fastidio? Eh. No. Rimani lì, nel posto tuo. Vedi? Guardate quello di stregatto. È il tempo del mio disegno. Woo. Io cercavo di evitare questo momento. Fa veramente schifo. Ma come è possibile? Anche qua giù fa schifo comunque. Ma aspetti, vuoi saperlo. Avvicinati. Sembra il mostro di Monsters & Co. No, sembra un roito, sembra. Come fai? Guarda che schifo. Ma cos'è? Ho perso anche i cuoricini. Ma stai zitto. Ma questo qui sta morendo. Questo sta chiedendo uccidetemi. Non conquisti nulla con i cuoricini. Uccidemi. Uccidemi. A mezzo no. Un pochino ingrifato invece. Guarda lì con quella bocca e quell'espressione tipo. Forse si vuole fare Alex. È un po' brutto. Sono brutti uguali. Magari c'è nato un po'. Guarda. È nato un sentimento. Sei tu con le corna. Dai, è carino. Contro il muro Alex. Fermo. Immobile eh. Allora adesso ti disegno due corna. Grandi, grandi. Così. No, due corna no. Un'alce. Vediamo un po' come ti stanno. E se sei uguale al disegno di stregato. Sì. Mi donano. Sì. Sì. Ma è vero. Uguale. Gli occhi a cuore non ce li ha perché non lo ama nessuno. Lui ormai è diventato duro. Bene. Sapete che cosa vi dico? Hai perso secondo me. Cioè voteranno nei commenti. No, lo decideranno. Va bene. Siate buoni ma giusti. Secondo me anche Alex ha fatto diverse porcate. E anche io. Però ho fatto anche qualcosa di bello. E anche se ho fatto qualcosa di bello. Mentre lui. Non ne ha fatto uno bello. Cioè. Lo zupi era carino. Quello era carino. I miei sono stati bruttini. Lo riconosco eh. Quindi forse ce la giochiamo un po' io te. Anche Alex. Alex poi è brutto anche lui come persona. Quindi punti bonus. Esatto. Punti bonus per bruttezza. Però lui ha fatto un po' schizzo. Pensate a tutti i coricini che ho messo. E tirarti fuori con questo all'ultimo momento. Potevi salvartene. E come fai? È difficilissimo fare il warden. Cioè hai disegnato anche il piscello. Veramente stregato. Veramente. Un volgare. Un volgare. Ergognoso. Stregale Alex. Coprimi quella show scenità per favore. Guarda. Io non lo so. Stregato chiedi scusa a tutti. Preparati a uscire i peli del pulbe. Perché io non so cosa fare. Che schifo. Quindi grazie di aver visto questo video. Ricordatevi di andare a preordinare. Il libro dei mostri di Lion. È Lion Out. Ciao.